Mr. Epifani visibilmente contento per una prestazione straordinaria. Il sole bacia i belli, ho detto in diretta, perché 29 gradi, una prestazione fantastica sotto tutti i punti di vista, difensiva, lì in mezzo nella zona nevralgica e poi quei tre davanti danno davvero spettacolo. Sono contento, sono contento perché oggi avevo paura, perché ci sono tanti incogni, quando giochi la prima partita le aspettative qui all'Aquila sono grandi, c'era tantissimo pubblico, c'era un'atmosfera bellissima e ci potevamo far condizionare. Invece i ragazzi hanno fatto una grande partita, l'abbiamo preparata, siamo arrivati bene, perché in queste due settimane abbiamo lavorato bene, dobbiamo migliorare alcune cose perché le dobbiamo migliorare, però fa parte del percorso di crescita di una squadra, ma sono soddisfatto perché oggi abbiamo fatto una bella partita che ti dà nella testa qualcosa di importante, adesso da lunedì penseremo alla prossima, però sono contento veramente di aver visto tante cose belle. Mister, sono qui, siamo qui anche per fare arrabbiare un po' gli allenatori, allora dico, in un particolare frangente, Raffaelli, fino a quel momento senza voto nella mia personalissima pagella, ci ha messo la pezza per ben due o tre volte, questo ad evidenziare che anche tra i pali avete tante certezze, ma anche che forse ogni tanto l'interruttore si spegne e non deve più accadere? A parte Raffaelli per me è un portiere forte, sta facendo benissimo, abbiamo anche il secondo che è forte come lui, quindi di questo siamo contentissimi, stracontenti, poi è allenato da Giancarlo Petrocco, quindi sono contento. Ha fatto due parati in un momento della partita dove abbiamo creato noi queste occasioni, perché in possesso palla abbiamo perso delle palle stupide che non dobbiamo fare, effettivamente in quei frangenti abbiamo un pochettino abbassato la sticella e abbiamo creato delle situazioni di pericolo per il nostro portiere. Questo lo dobbiamo migliorare perché poi quando devi mantenere il risultato, devi gestire la palla, poi con questo caldo la devi gestire bene, sai che in certi frangenti non devi forzare o non devi perdere palla. Noi l'abbiamo fatto purtroppo, abbiamo creato due situazioni difficili per il nostro portiere, motivo di lavoro e motivo di miglioramento. Questo è il tipo di campionato, ho detto ai miei ragazzi, insomma, un campionato dove i particolari fanno la differenza. Oggi qua squadra forte, squadra che ha i cambi, ho visto i cambi che sono stati fatti da Epifani, non si è abbassato assolutamente il livello di qualità da parte dell'Aquila, quindi significa che è una rosa importante, lo sappiamo. Noi dobbiamo fare un altro tipo di campionato, queste partite ci faranno sicuramente crescere. Mister, glielo chiedo perché poi la cabala nel calcio fa sempre la differenza, il gol dell'ex che ha sbloccato il match, ha alzato le braccia e ha chiesto scusa ai vecchi tifosi, per ovviamente non offendere la sensibilità dei tanti supporters che hanno seguito la sua squadra. Vabbè, Magalese è un giocatore importante per la categoria, un giocatore, un terminale importante, soprattutto su questo tipo di palle, insomma, sulle palle aeree, sul gioco aereo è fortissimo, ma è forte anche in altre situazioni, ma è un po' tutto l'attacco credo che sia di primissima qualità. Grazie Mister, in bocca al lupo. Grazie a voi, viva il lupo.